Buonasera, mi chiamo chiamati, a mangiare i giorni e mangiare tutti, no, perché i giorni mangiare i giorni. Tranquilo? Che ho mangiato tutti, ma... Cosa vuoi? Mi ha buttato un colo... Per Buscoli? No, 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 non per Buscoli, la Lega, la Lega. Ah, non, i Bamboni e Catria? No, no. Roma, la Trona, mi chiedo capisci? Si. Adesso puoi rassondarsi. Esatto. Che non è... Se sta a un grosso obiettivo, chi ha... Sì, sì, sì.